Buonasera a tutti, iniziamo questo 2021 con una vittoria, ancora in vetta la classifica, però una vittoria un po' sofferta quella del Milan contro un Benevento che ha fatto una grande partita e un Milan che si è fatto un po' schiacciare, saremmo stati sicuramente anche penalizzati dall'espulsione di Tonali dopo solo mezz'ora di partita, che è un'espulsione che ha fatto tanto parlare perché ci sono tanti che dicono che l'espulsione è giusta, tanti che dicono che l'espulsione non è giusta, io penso che il fallo di Tonali sia stato visto dal VAR come un fallo che c'era, perché sicuramente il fallo c'era, io non avrei dato rosso perché visto nell'insieme dell'azione non era un fallo fatto con cattiveria, era un fallo da munizione, non da espulsione, però poi ognuno la vede a modo suo. Detto questo il Milan ha fatto comunque una discreta partita, ci siamo portati a casa un 2-0 con un gol di Kessy su rigore e poi la chiude Leao sul 2-0 con un bellissimo gol che devo dire che io Leao non l'ho mai amato come giocatore e continuo a non amarlo, ma devo dire che nelle ultime partite lo sto molto rivalutando, deve sicuramente crescere ancora tanto, maturare un tanto come giocatore, però piano piano cominciano a vedersi dei buoni risultati da parte sua. Poi che dire, Kier per me è pazzesco, è un difensore che è pazzesco, come si può ben vedere le partite in cui Kier non c'è stato, la rete del Milan si è sempre gonfiata, ieri sera sarà un caso, non lo so, Kier presente in Milan non ha subito gol, Gigio Donnarumma sempre un nome, una certezza, Gigio secondo me è uno di quei giocatori che il Milan non può fare a meno, difatti spero che ci sarà il suo rinnovo e per questo spero in un rinnovo sia da parte di Gigio che da parte di Akan, che secondo me si stanno dimostrando due leader della squadra, due giocatori indispensabili. Ora, testa alla Juve, mercoledì che nonostante stia passando un momento un po' così, è comunque una grande squadra con dei grandi giocatori, ma al Milan nonostante il momento di sfiga per quanto riguarda gli infortuni si sta dimostrando una squadra che non deve avere paura di nessun'altra, all'altezza di ogni altra squadra. Quindi, torno a disposizione con la Juve e Teo che era fuori per squalifica, non avremo a disposizione tonali però sono sicura che sarà una partita bella, non voglio sbilanciarmi troppo sulla partita però sono sicura che sarà veramente un'ottima partita. Detto questo, vi mando un bacio e sempre Forza Milan!